... Francamente mi fanno molto sorridere tutti quei colleghi editori che si trovano con l'acqua al collo, con i magazzini pieni di libri cartacei non venduti e improvvisamente scoprono che esiste il libro elettronico e allora perché non aggrapparsi scompostamente a questa zattera del libro elettronico facendo così, operando sulla base dell'angoscia e del terrore delle cose che gli stanno andando male in libreria non risolveranno mai alcun problema se ti vuoi avvicinare al libro elettronico, caro collega editore devi programmare, devi fare un progetto editoriale perché che ne pensino tanti scioccherelli che si avvicinano al libro elettronico il libro elettronico è un prodotto molto serio deve essere di qualità e non deve essere qualcosa di rabberciato perché il lettore pretende di avere dei prodotti di qualità